Il tema dell'infanticidio è un tema poco sondato perché fondamentalmente è respingente. Si ritiene che una madre che uccide il proprio figlio compia un atto contro natura e quindi non si ha la volontà, la curiosità di comprenderla, non dico di giustificarla, ma di comprendere che cosa è avvenuto dentro di lei per arrivare a compiere un atto così efferrato. I dati ci dicono che dal 2010 ad oggi sono avvenuti quasi, si sono verificati quasi 300 casi di infanticidio l'ultimo proprio pochi giorni fa, una media di uno ogni due settimane. Quindi il fenomeno esiste e va assolutamente il tema affrontato. Il teatro è un'ottima opportunità perché consente di entrare in... Diciamo chiama in causa, richiama il senso di responsabilità di ciascuno di noi, di chi assiste, che poi rimane libero di pensarla come vuole, ma che sicuramente a teatro ha la possibilità di ricevere delle suggestioni che vanno nella direzione, ripeto, di comprendere. Il testo che verrà portato in scena, che viene portato in scena, che sta girando, è un testo sicuramente crudo, ma che invita a sospendere il giudizio e a cercare, ripeto, di capire, perché è capire la parola d'ordine per far funzionare meglio diciamo la società, le relazioni, anche perché le mamme infanticide o figlicide, a seconda di come le vogliamo chiamare, tante volte sbagliando perché in realtà il figlicidio riguarda i bambini un po' più grandi, l'infanticidio riguarda i bambini neonati, insomma è un tema che chiama in causa anche il sistema sanitario, il sistema socioassistenziale, i costi sanitari e chiama in causa ovviamente gli aspetti psicologici, quindi insomma non può essere lasciato a sé e questi casi non possono essere considerati dei momenti di follia e dei raptus. Va assolutamente sondato il fenomeno a livello sociale, a livello psicologico e anche a livello sanitario ed economico. Il tema dell'infanticidio è un tema molto delicato e molto particolare, ho dovuto lavorare molto sul testo di Camilla Ghedini per cercare sia di estrapolare un contesto drammaturgico che potesse in qualche modo tenere il pubblico e quindi contestualizzare la vicenda, ma anche lavorare sulle emozioni, sul sentito, sull'intimo e quindi comunicare all'attrice un certo tipo di interpretazione carismatica ma anche forte, travolgente per il pubblico. La criminologa Alessandra Bramante ha dato un contributo fondamentale perché oltre al testo di Camilla Ghedini noi abbiamo avuto bisogno di un supporto per entrare all'interno di queste dinamiche e quindi rendere diciamo più verosimile dal punto di vista teatrale ciò che invece è la realtà degli infanticidi e quindi anche entrare nei casi, nell'elenco forte di questi casi che sono stati così drammatici e così altamente, che hanno colpito l'opinione pubblica in maniera così forte. Innanzitutto per me è stato veramente un grande piacere poter affrontare questo viaggio, innanzitutto perché questo è un bellissimo spettacolo che rientra nella mia, tra virgolette, trilogia della violenza che ha un po' caratterizzato il mio teatro negli ultimi anni, cioè raccontare quei temi sociali che sono strettamente legati al nostro tessuto contemporaneo. Il tema dell'infanticidio in particolare è un tema sicuramente antico che ci viene raccontato anche attraverso i grandi autori, classici greci, Shakespeare e autori ampiamente studiati, però è stato molto importante per me creare proprio un gancio osservando anche la cronaca nera, la cronaca nera del nostro paese che purtroppo racconta quotidianamente di questi casi. Sicuramente è stato molto importante da un punto di vista non solo psicologico ma anche creativo lavorare su entrambe le donne. La figura dell'imputata e quindi dell'assassina, io mi avvicino sempre con molto garbo a queste figure perché non le giudico. Questa cosa non mi deve impedire di penetrare nella loro mente perché il giudizio ci fa creare una distanza. Quindi innanzitutto è stato un lavoro proprio molto profondo di attraversamento totale e soprattutto un lavoro anche sulla fragilità perché purtroppo attraverso l'opinione pubblica e anche tutto quello che è la comunicazione, le figure di queste assassine sono delle figure che secondo me non vengono comprese fino in fondo perché parte il giustizialismo, lo spettacolo ovviamente non vuole assolvere minimamente ma vuole provare a comprendere fino in fondo che cosa accade nella mente di una donna, nella mente smarrita di una donna. L'imputata, il magistrato invece è una figura che comunque troverà dei punti di contatto con questa donna perché è una donna che non è riuscita a diventare madre e quindi per un gioco di specchi si troverà a dover tra virgolette giudicare in tribunale una donna che da madre ha rinnegato suo figlio mentre lei invece avrebbe disperatamente voluto diventare madre. Quindi in qualche modo si racconta un dramma che abbraccia entrambe le donne per motivi diversi.